Qualche giorno fa abbiamo riportato alla notizia della grande nave che lasciava i cantieri visentini di Porto Levante destinata a operare nelle trotte dell'Europa del Nord. Abbiamo ricordato appunto con un certo orgoglio che tra gli ufficiali dell'equipaggio c'erano appunto i due giovani chioggiotti, Leonardo Finotto e Andrea Triozionetti. Però pensiamo che sia importante anche sottolineare che il successo dell'uscita in mare delle navi del cantieri visentini è stato reso possibile grazie anche al lavoro di scavo svolto in tempo di record dalle società legate alla storica famiglia di imprenditori specializzati negli scavi marittimi in Menela. Le motonavi Conte Savoia e Cavaliere Sergio appartenenti appunto alle società di scavi hanno operato con grande efficienza anche di notte per garantire l'uscita in sicurezza delle navi scavando nella zona della focce del Po.